Salve ragazzi, bentrovati nuovamente da Rangue Sport con Onofi Colucci. Parliamo di un altro nuovo prodotto in casa Saucony, la nuovissima Saucony Hurricane Isofile. Scarpa scabile senza sacrificare l'ammortizzamento, la struttura fisica e dinamica della corsa determinano di quanta stabilità in fondo ha bisogno il runner. Il livello di stabilità extra è dato dal bilanciamento tra la costruzione laterale e mediale del calcagno. La landing zone, la parte laterale esterna, è studiata per ridurre la torsione attorno alla caviglia, dato dall'impatto con il suolo. Il supporto mediale di materiale più rigido controbilancia la rotazione generata dall'impatto laterale. La flessibilità di torsione nel mesopiede permette ai piedi di appoggiare e rullare con un movimento naturale e controllato. Tutto questo è la nuovissima Hurricane Isofile, che presenta un'intersuola rialzata in Everand con un supporto mediale bilanciato per una corsa robusta e senza spiacevoli torsioni. Il mesh traspirante in doppio jacquard avvolge il piede e riduce i movimenti eccessivi. A ritmi sostenuti o di crociera, la nuovissima Saucony Hurricane Isofile è musica e armonia per i tuoi piedi. Quindi ripetiamo, intersuola in Everand, Isofit sulla tomaia, post sul mediale, suola con gomma con cristalli, alloggio interno in formfit, molto importante. Il drop rimane di 8 mm, il peso uomo 320 grammi, il peso donna 286 grammi. Tutto questo naturalmente da Rango Esport a noi Cattaro. Vi aspetto. Ciao, a presto da Uno Frecolucci.